Sicuramente una prova positiva da parte dei miei, come le giude ho abbastanza positive anche quella dell'ultima giornata, dei giornali precedenti, noi le partite dovevamo vincere, erano prima, ci potevamo permettere anche di perderla, ma anche semplicemente non a tutti la prima vantaggio di trovare Treviglio senza Marino, però anche di trovare noi senza tessitori allo stesso modo, una prova positiva, però potevamo fare qualcosa in più per vincere la partita. I ragazzi sono stati molto bravi, hanno fatto un'ottima partita costruendo tantissimi tiri aperti, soprattutto nel secondo tempo contro la zona, che non sono entrati, però è dimostrazione del fatto che abbiamo mosso bene la palla, che probabilmente un po' di stanchezza ha inficiato le percentuali, ovviamente anche quelle di Sieno sono state abbastanza basse, e abbiamo ottenuto con la difesa, ogni parziale vinto, una partita non facile, più principalmente un buon segnale per la squadra che ha giocato senza due segni, con un solo segno di Zanella, un buon segnale per i nostri giovani, che contro una che dovrebbe essere la squadra più giovane del campionato, oggi lo eravamo noi, però una buona squadra ha fatto vedere che anche i nostri giovani sono di ottimo livello.